Vuole essere un modo per dare visibilità e consapevolezza su chi ha questi problemi, che non è una malattia l'autismo, ma è un modo di essere diverso dagli altri, come un po' tutti lo siamo. In questo periodo di Covid, dove la normalità, abbiamo capito cosa vuol dire non averla, si può comprendere meglio quale può essere il problema per queste persone che sono a loro modo diverse da tutte le altre. Perché non esiste una cura specifica per questa situazione, che non è appunto una malattia, ma è un modo di essere diverso dagli altri. Quindi per la consapevolezza di queste persone che si trovano a disagio, perché tendenzialmente vengono emarginate dalle persone che si ritengono normali, è un modo per far ricordare appunto le problematiche delle famiglie che tutti i giorni devono affrontare queste situazioni e per ricordarci che tutti diversamente siamo diversi uno dagli altri, ma diversamente uguali. E quindi per ricordare che queste persone hanno bisogno di più attenzione degli altri rispetto a tutte le altre persone che non hanno di questi problemi. E qui c'è la giocosità delle gioco, un trono per far sentire il bambino appunto anche al di sopra. Sì esatto, abbiamo scelto questo tipo di gioco, il blu è il colore che rappresenta l'autismo, perché dà sicurezza che è la cosa che ricerca un bambino che ha queste problematiche. e il trono vuole essere appunto un momento per mettere al centro dell'attenzione queste persone che ci possano salire, ma tutti si possono salire perché tutti siamo sullo stesso piano, ma è un modo per ricordare che anche queste persone hanno bisogno di maggiore attenzione. Abbiamo voluto prendere questa iniziativa in questa occasione tramite la nostra filiale che abbiamo nel comune di Montelabate per fare presente la nostra vicinanza a queste problematiche e anche come banca del territorio, perché essendo l'unica banca locale rimasta sul territorio, sia di Montelabate, anche della città di Pesaro, Vallefoglia pure, qui siamo proprio confinanti con Vallefoglia, vogliamo sempre essere più presenti e in ambito sociale portare il nostro contributo. Appenso che è una banca sanissima, è una banca che nel corso degli anni ha avuto sempre ottimi risultati, anche quest'anno abbiamo un bilancio molto soddisfacente, quindi tante iniziative a favore delle aziende del territorio, a favore delle famiglie del territorio e quindi anche queste iniziative che vanno in ambito sociale e per far sì che la nostra presenza sia sempre più radicata. Un altro momento importante per la nostra banca, ma soprattutto su un argomento molto importante che è l'autismo che sta colpendo purtroppo anche tante persone. E quindi ci vuole una grande sensibilità di tutta la comunità e la banca locale non può assolutamente esimersi da fare a contribuire a far sì che questi progetti vengano portati a termine nel miglior modo possibile. La gente è sempre molto affidabile e ad oggi quando facciamo anche la selezione dei progetti guardiamo soprattutto da chi provengono, che è una cosa fondamentale. Sì, sicuramente l'iniziativa è rivolta a bambini che possono essere estraniati dal contesto sociale e una nobile iniziativa a loro favore. Non so poi come si svilupperà la tematica del gioco, magari proprio facendoli sentire, visto che è un trono, facendoli sentire magari dei re all'interno del contesto sociale.